salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito dal titolo oggi si parla di compagnie telefoniche o meglio di abbonamenti telefonici mobili sì perché a questo punto mi sono venuti veramente ragazzi dei seri dubbi tutto è nato quando sono andato l'altro giorno per attivare o a mia moglie allora partiamo dall'inizio allora all'inizio avevo fatto iliad quando era appena uscito quindi tutto ok tutto funzionava bene poi l'ho abbandonato perché alla sera era diventato impossibile utilizzarlo nel senso che utilizzare iliad alla sera nella mia zona era diventato veramente improponibile youtube non si riuscivano a caricare i video quindi ho abbandonato iliad e sono passato a O sono passato quando la tariffa di O era di 7 euro e 99 al mese che è quello che sto pagando tuttora con 40 giga minuti illimitati bla 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 ok adesso dopo circa tre mesi di utilizzo giù di lì adesso non mi ricordo più o meno quanto è il tempo per una cosa del genere quindi ho visto che va bene adatto alle mie esigenze ho deciso di farlo anche a mia moglie lei attualmente ha vodafone come l'avevo io prima di dio ovviamente quindi adesso volevo fare passare mia moglie da vodafone a O vado per fargli l'attivazione e cosa scopro scopro che ho adesso è a 11 euro e 99 ma che cavoli di offerta è 11 euro e 99 nel senso dov'è il love cost cioè quando l'ho fatto io a 7 99 era un love cost quindi anche poi anche le prestazioni la copertura che poi la stessa di vodafone ci sta si aveva il limite e si ha tuttora il limite di 30 megabit di velocità massima ma quello per il mio utilizzo non è mai stato un problema sapevo che era quello però devo dire che sera giorno mattino va sempre va sempre bene ma a 7 euro e 99 a 11 euro e 99 cioè ragazzi guardate 11 euro e 99 al mese perché però se passiamo a O da Iliad da Kena o da altri operatori diciamo virtuali allora il prezzo è di 6 euro e 99 ma quindi io se ho vodafone perché dovrei passare vodafone in questo caso ma anche avesse avuto team o avesse avuto wind perché dovrei passare a O a 11 euro e 99 cioè una compagnia love cost che ha comunque dei limiti limiti dati dai 30 megabit che a uno può interessare o meno però è un limite che c'è è a 11 euro e 99 ma che cavolo poi allora vado a vedere Kena Kena cosa ha a 6 euro e 99 se però arriviamo da Iliad da O e da bla 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 se arriviamo da vodafone se arriviamo da team se arriviamo da wind se arriviamo invece da questi operatori il prezzo diventa 11 euro e 99 come O cioè allora questi operatori love cost rimangono love cost attualmente solo se si arriva da altri operatori virtuali se si arriva da operatori diciamo fisici allora il prezzo è di 11 euro e 99 che a quel prezzo allora uno si guarda in giro un attimo nel senso che allora posso andare a vedere wind che mi dà a 9 euro e 99 30 giga con minuti illimitati bla 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 e senza il limite dei 30 megabit perché anche Kena se andiamo a guardare ha il limite dei 30 megabit vedete qua ha il limite fino a 30 megabit cioè abbiamo anche qua dei limiti e lo paghiamo 11 euro e 99 nel caso arriviamo da un operatore fisico quindi perché a questo punto vado a vedere team e team mi offre 40 giga minuti illimitati sms illimitati a 15 euro al mese che ovviamente è di più di quello che ho o di quello che è Kena però è anche vero che abbiamo però team diciamo un operatore fisico senza limiti di velocità quindi una velocità alta sempre e più alta dei 30 megabit quindi a questo punto la differenza veramente la forbice che si va a creare tra un operatore fisico e un operatore virtuale se si arriva da un operatore fisico è diventata veramente minima perché se adesso andiamo a vedere anche Vodafone Vodafone ci fa l'offerta a 11 euro e 99 come quella di O la differenza sono i giga che sono 20 anziché 50 però abbiamo facebook, instagram, whatsapp, mappe che non hanno un consumo nel senso lì è illimitato quindi alla fine abbiamo la velocità non limitata a 30 megabit quindi a questo punto diventa veramente un casino scegliere un operatore cioè già era un casino prima scegliere qual era meglio tra gli operatori virtuali che c'erano adesso diventa ancora più un casino perché scegliere un operatore virtuale o scegliere un operatore fisico le differenze ormai sono diventate minime sempre se si passa o meglio si arriva da un operatore fisico perché se si arriva da un operatore virtuale allora i prezzi sono ancora bassi mentre prima non era così che si arrivasse da un operatore fisico o che si arrivasse da un operatore virtuale i prezzi erano comunque bassi a parte O che il limite l'aveva messo dopo che se si arrivava da Vodafone allora il prezzo era diverso perché comunque ovviamente Vodafone essendo di loro proprietà o meglio O di proprietà di Vodafone per non mettersi il bastone fra le ruote ovviamente aveva un prezzo diverso è tutta una storia anche lì che lascia il tempo che trova quindi ragazzi questo era solo un video di sfogo perché veramente ci sono rimasto malissimo quando sono andato per attivare a mia moglie il passaggio da Vodafone a O e mi sono trovato il prezzo di 11,99 euro quando io ce l'ho di 7,99 euro ed era di 3 mesi fa 4 mesi fa adesso non mi ricordo un periodo del genere e l'assurdo è che però il prezzo basso esiste ancora 6,99 c'è ancora ma se si arriva da Iliad, Kena è l'unico operatore che è rimasto diciamo con le sue idee o meglio senza queste differenze sembra Iliad che indipendentemente da dove si arriva costa 7,99 euro con 50 giga minuti illimitati questo a livello di costo dopo a livello di prestazioni o meno non lo so nel senso qui da me era arrivato un punto in cui veramente era diventato inutilizzabile a livello di internet e quindi l'avevo gestinato per quello però magari invece adesso funziona anche qua o invece in altre zone va benissimo questo non lo so però di sicuro è quello che non ha diciamo problemi da dove si arriva tutti gli altri veramente è diventato un casino allucinante quindi ragazzi ripeto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate magari come vi trovate voi col vostro operatore avete intenzione di fare a quale operatore passare se non ve ne frega niente di passare a un altro operatore o via dicendo quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se vi va e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ovviamente al canale YouTube e ci vediamo ragazzi nei prossimi video ciao